Ciao a tutti e vi mostro tutto e spero di tenervi un po' di compagnia che il video vi possa anche essere utile buona visione iniziamo dalla carte du chapette che può far bacco non si può più comprare ma quanto cacchio costa? aiuto ho scelto questa 12 rotoli giganti che comunque sembrano belli cicciotti e anche resistenti quindi è quella che mi è sembrata meno peggio la più buona tra tutte quelle a disposizione che costano veramente tantissimo allucinante questa scottex pulito originale maxi il pulito di cui ti fidi XXL quindi exaggerate super super carte du chapette poi ho preso questo set è la scopa completa col bastone è la scopa perché mi piace troppo la fantasia adoro troppo poi magari mi metto la foto è bellissima fucsia leopardato con lo sfondo bianco mi sono innamorata della scopa troppo troppo carina salviettine citrosi le ho scelto queste perché erano in offerta io solitamente uso sempre le salviette queste qua igienizzanti le tengo sempre in borsa non si sa mai per superfici o altre robette ma anche prima che succedesse tutto l'ambaradan fastidioso le ho sempre avute sia igienizzante che le salviettine se non proprio queste è anche un'altra salviettina multiuso sono sempre pratiche e utili ho scelto queste citrosi home protection salviette multi superficie igienizzanti rimuove germi e batteri sgrassa a fondo pulito e igiene sono 40 panni ottime da tenere appunto in borsa 100% fibre biodegradabili e con vere essenze di limone troppo troppo profumato adoro tantissimo poi per Roby due deodoranti Neutro Robbers i suoi preferiti questi qua fresco zero sali zero sal di alluminio zero macchie classico 48 ore deo stick poi ho preso la carta d'alluminio perché quella che abbiamo mi dispiace perché non riesco così ad utilizzarla è stata fabbricata male ai latti e quindi quando la srotolo si va a perdere almeno 2 cm al lato e si srotola male quindi ho preso anche questa giustile questo alluminio super resistente avvolgente da 8 metri fresh made in Italy poi il sacchetto per i rifiuti questo risparmio casa anche se quello che ho preso da saponi e profumi mi piacevano molto quindi ci dovrò rifare un salto adesso vediamo come sono queste qua poi valuto un pochino sacco più 8 sacchi rifiuti con maniglia estraibile 70 x 80 litri anti goccia però sono solo 8 può far bacco può far bacco poi ho preso il mio amato uccelli questo verde amo detergente in intimo freschezza naturale allungo questo anti odor PH5 clinicamente testato ho preso il mon amour però il detersivo fresh blue 26 lavaggi molto buono questa è una novità coccolino ispirato alla natura ecco cert allora questo ecco il lang lang mi ha sconfinferato non l'ho aperto perché io non sono non sono solita non lo faccio praticamente mai aprire le confezioni nei negozi non mi piace e quindi insomma è proprio un nuovo prodottino da mettere all'opera sono 30 lavaggi mi incuriseva tanto perché il lang lang a me piace muccio ammorbidente concentrato questo non l'avevo visto ecco qua poi ho ripreso anche il deox lavatrice efficace sui cattivi odori classico questo qua dice 30 lavaggi il mitico l'isoform tutto in uno il disinfettante efficace sullo sporco di bagno e cucina presidio medico chirurgico che io amo 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 il mio mitico citrosil spray con vere essenze di limone lo sgrassatore disinfettante anche questo presidio medico chirurgico non ho fatto anche quello per il bagno però quello per il bagno ce l'ho lo uso non è così tanto profumato io questo lo amo tantissimo ho contagiato un sacco di persone mi piace davvero da impazzire poi lo trovo veramente super super valido ottimo prodottino poi questo l'isoform vc gel tutto in uno igienizza e sbianca scioglie il calcare rimuove germi e batteri fresco profumo un prodotto completo per il tuo vc mi vediamo un po' vediamo un po' invece questa è una novità assoluta per me ed è questo prodotto della winniss natural il doccia trattamento autopulente non so dove leggere ecco provo a leggere direttamente dalla confezione perché non ci vedo niente ma viene la doccia pulita e brillante con materie prime di origine vegetale da fonti rinnovabili completamente biodegradabili senza asciugare ipoallergenico nickel cobalto cromo tested vediamo un pochettino come si comporta questo prodotto sono curiosa molto 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 curiosa poi preso il sapone per le mani perché non ne avevo più questo vidal argan oil sapone liquido idratante olio di argan biologico molto molto buono preso anche la tinta perché costava un po' meno rispetto alla cry e quindi l'ho l'ho acchiappata da risparmio casa è la schwarkov palette professional performance la 4.2 castanomogano che sto utilizzando in questo periodo e mi piace tantissimissimissimo è davvero un colore stupendo è una buona tinta molto 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 valida il mitico acce anche questo lo sto per terminare oxigen più acce candelcina più gentile rimuove germi e batteri questo si può utilizzare anche sui colorati sgrassa le superfici smacchia e si può utilizzare appunto anche sui colorati mi piace tantissimo è veramente un ottimo prodotto presi gli assorbenti linee seta ultra si prezzo piccolo sempre di meno 11 sono sempre di meno questi assorbenti va bene fra un po' fanno il pacco da 1 sempre a 2 euro un assorbente 2 euro e però gli hanno diminuiti hanno diminuito l'iva lasciamo perdere poi le mitiche pagliette saponate profumo di limone 10 pezzi adoro 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 e in ultimo un po' di prodottini per i denti riacquistati gli spazzolini non ho trovato però la confezione da 3 di questi menta ma non c'era proprio non so come mai adesso visti così forse non sono neanche gli stessi che abbiamo preso le altre volte cacchio mi sono accorta adesso vabbè speriamo bene altrimenti prendono anche gli altri non è un problema tanto si usano menta protezione famiglia medium e sono questi qua da due e invece Solfie ha scelto questo dei risparmi o casa denti sensibili sensitive in color blu viola biul lilla bello molto 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 carino e poi 3 denti fricci 2 uguali 1 diverso anche questi erano in offerta l'acqua fresh menta delicata protezione 3 in 1 per tutta la famiglia 24 ore tripa protezione invece l'altro è l'acqua fresh intense clean whitening però quindi raddoppia l'azione pulente e ha un doppio effetto splendente fino a due volte superiore ed infine ho riacquistato lo shampoo l'oreal pari el vive olio straordinario perché ho già messo in uso quello che avevo comprato di recente non mi sta dispiacendo per nulla ho trovato questo da risparmio a casa mi pare sui 3,50 euro una roba del genere col maxi formato da 700 ml quindi ne ho acquistato un altro ed è sempre lui olio straordinario shampoo nutriente consigli di fiori preziosi luminosità intensa morbidezza leggera per capelli secchi eccola qua la mia spesuccia di rifornimento dal risparmio spero che il video vi sia piaciuto e vi abbatenuto un po' di compagnia fatemi sapere che ne pensate aspetto di leggervi mi raccomando spoliciate se vi è piaciuto lasciate un commentino e iscrivetevi per non perdere i miei prossimi video è gratis non vi costa niente ma mi aiutate tantissimo e quindi mi raccomando grazie per aver visto il video io vi mando tanti tanti super baciottissimi e se vi va ci vediamo al prossimo ciao ciao